Diciamo che ci voleva questo risultato, ma anche questa prestazione, perché devo dire che il risultato, il fatto che il risultato sia avvenuto dopo una bella prestazione, da maggior risalto, soprattutto ci dà un po' di morale per rialzarci e per riprendere il nostro cammino verso l'europeo. Sappiamo che dobbiamo tanto lavorare, su questo è poco, ma è sicuro, però tutti noi siamo entusiasti, abbiamo voglia di fare bene e di non solo andare all'europeo, giusto per presenziare. Sicuramente questo torneo ci ha servito da lezione e sono sicura che ognuno di noi tornerà a casa e inizierà a lavorare dai prossimi giorni. Il reparto offensivo è stato quello un po' carente in questo torneo, perché mi ha fatto solamente una rete. Abbiamo subito altre tante, però era importante, come dicevo prima, fare risultato e farlo anche con un risultato abbastanza largo ci dà morale per prepararci all'europeo. Grazie.